Il re delle slot Si è fatto prelevare e scortare a Regina Celi da Polizia e Finanza e adesso si dovrà capire cosa lo ha spinto a rientrare nel nostro paese dopo un anno e due mesi trascorsi da super ricercato dell'Interpol. Irreperibile dopo che nell'inchiesta sui presunti prestiti facili erogati dalla Banca Popolare di Milano erano infine scattate le manette. Gli arresti domiciliari per Massimo Ponzellini all'epoca al vertice di BPM e un ordine di custodia cautelare per Corallo, il titolare di B+, beneficiario di un maxifinanziamento erogato ad una società che gestisce un terzo del mercato interno nel settore delle slot con circa 300 dipendenti in Italia. Francesco è figlio di Gaetano Corallo, boss catanese coinvolto in inchieste per legami con il clan mafioso dei Santa Paola e da sempre si muove a suo agio nella galassia ex Missina. L'ultima volta che si è parlato della casa di Monte Carlo, goccia nel patrimonio di alleanza nazionale che ospitava il cognato di Gianfranco Fini, è stato a causa dei documenti trovati dai finanzieri nella casa romana in piazza di Spagna di Corallo, fax che proverebbero i rapporti dell'ormai ex latitante con Giancarlo Tulliani. James Valfenzao, fiduciario dell'Atlantis di Corallo, era anche il legale rappresentante della società offshore con sede a Santa Lussia che comprò la casa monegasca. Un altro ex Missino, l'ex deputato PDL Amedeo Laboccetta, comparve sempre durante la perquisizione in piazza di Spagna per portarsi via sotto gli occhi dei finanzieri mandati dai PM di Milano un computer di Corallo, poi restituito agli inquirenti ma con dati cancellati. Episodio surreale che basta spiegare le attese suscitate dal rientro di Corallo. A riportarlo in Italia potrebbe essere stata anche la preoccupazione per la sua B+, società già condannata dalla Corte dei Conti per un danno erariale astronomico, 800 milioni di euro da confermare in appello. Poche settimane fa, inoltre, la B+, e una decina di società concessionarie del gioco d'azzardo, sono state di nuovo oggetto di sentenza della Corte dei Conti del Lazio. Il Collegio avrebbe dovuto esprimersi sulla loro attività di agenti contabili, cioè di esattori, per conto dello Stato, in percentuale sulle fenomenali somme incassate. Ma per ora i magistrati contabili hanno sospeso il giudizio per le carenze nelle documentazioni presentate.